ciao ragazzi e ciao ragazzi perché non cominciare anche così benvenute sul mio canale ben ritrovate si mi vedete nella stessa stanza nella stessa veste però ho già detto certe volte giro un video uno dopo l'altro che vi devo far vedere in questo video vi faccio vedere un haul diciamo misto perché siccome ho anche due tre cosine che ho preso ultimamente però vi devo far vedere in primis ultimi prodotti che mi sono arrivati da faberlic allora vi dico come sta la situazione visto che in questo istante un po di tempo e più che altro giusto anche per spiegare perché so che tante di chi mi segue sono ragazze che lavorano oppure hanno contatto col faberlic sono clienti dovete sapere la vera situazione di faberli ad alcune è stata spiegata dai loro sponsor dai loro direttori e io sulla spiego dal mio punto di vista e da quello che so da che mi è stato trasmesso dalla mia direttrice io quando è cominciata la guerra non pensavo che durasse così tanto la guerra ok quindi ho sempre sperato che finisca subito e che questo conflitto si conclude in qualche modo e non si andrà avanti per dei miei anni e così via non è stato così tuttora ancora siamo c'è ancora la guerra nel senso ma siccome l'azienda faberlic è un'azienda russa con fondata fondata in russia con fondamentali con la sua le sue fabbriche e la sede lì ha avuto da subire perché anche se non è guerra in russia ma sta facendo la guerra quindi sappiamo che un europea ha sanzionato la russia moltissimo perché danneggia anche in generale agli altri paesi di conseguenza la gente l'azienda ha cominciato a scricchiolare avere dei problemi ma non perché lei le volesse e non c'entrasse nulla con la guerra per carità di dio e lei è contro però sapete come sei messo più o meno nella stessa pentola con tutti e subisce anche te le stesse conseguenze come d'altronde hanno subito anche altre aziende che sono in russia e in primi sono stati congelati fermi i conti bancari a un certo punto noi siamo viste che ritrovate che non potevamo pagare i nostri ordini online cioè se noi eravamo abituati a pagare ordini online con le carte di credito carte preparate con il sistema paypal tutto quanto da oggi a domani questi metodi sono stati chiusi perché non ce l'ha più concesso la l'europa ma non non c'è più stato nemmeno la modalità dalla russia di allora la russia cosa ha fatto l'azienda avendo magazzino in polonia e qualche conto credo aperto lì ci ha fatto dare dei ma anche prima c'era se si voleva fare il pagamento dell'ordine col bonifico si poteva fare anche prima ma noi non usavamo però il bonifico dura due tre giorni e quindi si è appoggiato a questo metodo di pagamento il bonifico bancario quello che per tante di noi consulenti anche clienti perché no è diventato una specie di problema perché io per me no era noioso perché abituati a farti l'ordine che magari che arriva quel clienti o quella cliente che ti ordina nei ultimi giorni di campania e tu parti con l'ultimo ordine che per te la domenica mattina e la domenica sera si chiude la campania lo puoi fare perché paghi subito è così però col bonifico non lo più potevi fare perché dovevi restare più o meno entro il venerdì perché se no sapete il bonifico dura due tre giorni che entrano i soldi nell'account e non ti potevi pagare l'ordine a parte quello per devi anche la qualifica e punteggio vabbè ci sono un sacco di cose riguardando il piano marketing che non li potevi più seguire e di conseguenza a noi ci ha dato come una specie di bastonata in tasta perché io un po le mie ragazze le ho aiutate quelle che volevano fare mi ero presa la briga di farle io il bonifico nel mio conto però è che era così facile perché il bonifico a un costo se tu non fai un ordine sopra i 100 euro e fai sotto i 100 euro paghi anche la spedizione e quindi di conseguenza una decina di euro ti volava via dalla tasca tranquillamente non è che uscivi in guadagno uscivi in perdita se stiamo bene a vedere ragazzi io vi dico le cose come stanno anche se magari mi sentirò dei commenti non me ne frega niente però non mi piace dire bugie e non non capitemi male e non prendetela come una critica verso l'azienda fabel non è una critica anzi mi dispiace un botto perché io ero affezionata a questo brand non l'avrei scelto e non ci sarei stata tre anni dentro e mezzo quasi 4 e di conseguenza ci siamo mosse come potevamo è ovvio che sono scarseggiate gli ordini hanno cominciato a mancare dei prodotti perché l'azienda produceva meno a un certo punto ci siamo viste che non abbiamo più avuto la stampa del catalogo cartaceo ma perché perché si è dovuto cambiare un pochino anche i prezzi perché si sono alzati cose del petrolio sapete le solite cavolate che non succedeva solo in russia ma anche tutta l'europa e di conseguenza loro hanno detto vabbè aspettate che ristampiamo per una campagna si lavora senza catalogo solo quel digitale pdf ci siamo arrangiate anche così per dire per 12 una campagna la seconda campagna senza catalogo sarebbe stata questa che la settima e vabbè abbiamo detto vabbè lavoreremo anche questa senza useremo il pdf non c'è problema le clienti al limite se vogliono vedere un catalogo prendere il catalogo vecchio si sfoglia per dire e niente raga da oggi a domani i problemi sono cominciati veri e propri perché a parte che carichi in magazzino non ci sono più stati perché la fabbrica non produceva più a un certo punto io ho visto che il sito non accettava più gli ordini ho detto aia qui non va bene e c'è stato poi comunicato che l'azienda non potendo trasferendo perché sta provando di trasferirsi in europa ecco questo è il discorso per non avere più collegamenti con la russia perché è sanzionata no la russia ha provato di trasferirsi come spiegarvi trasferirsi in polonia perché polonia d'altronde c'è il nostro magazzino centrale per l'europa niente raga polonia assa sanzionato la azienda perché è stata anche polonia probabilmente costretta essendo un paese europeo di sanzionarla e di conseguenza l'azienda ha dovuto pure perché è stata proprio obbligata chiudere anche il magazzino ed in punto in bianco si è vista senza magazzino in europa è ovvio ragazze non c'è merce cosa vendiamo non vendiamo niente perché non possiamo allora nel tempo che l'azienda cerca di trovare il paese che l'accoglie e gli dà la possibilità di trasferire tutta l'azienda che ne so operai che fabbricherà non è una cosa da da poco loro hanno detto 46 settimane ma secondo me non sarà così hanno fermato tutto congelato praticamente non succede nulla con i codici aperti di ciascuna delle consulenti delle direttrici io meno male che non ho dico meno male perché se non sarei stata costretta perché ragazzi quando firmi il contratto inutile che le direttrici non dicono la verità ma è così sei vincolato non puoi andare a lavorare in un'altra azienda io non essendo vincolata e non avendo firmato il contratto io posso fare quello che voglio ecco sta di fatto che ho cominciato a fare avroncia che me frega che il mio codice ancora aperto si può rimanere lì quando l'azienda riprende io posso solo acquistare per me stessa faccio consumo tanto quanti non fanno consumo la cosa bufa è che io avevo squadra tutte le mie ragazze anche si sono comunque questo è il la vera storia di faboli non è chiusa ma è ferma è come fosse chiusa perché non producono già un prezzo un po i prezzi erano cambiati un po alzati perché era un'azienda con dei prezzi abbastanza buoni cioè molto buoni diciamo se adesso entrerà a far parte di un paese come si spera europeo di sicuro i prezzi io ve lo dico già saltano nel senso che cambiano e saranno pari più o meno con le altre aziende che sono qui che vendono merce abbastanza buona perché guardate i prezzi da lavron guardate il rocher che francese guardate oriflame che svedese perché io conosco un po di aziende guardate l'ambra guardate vegas che preziano cioè vegas e l'ambra e unique hanno dei prezzi cioè non lo dico io lo dicono le consulenti che hanno lavorato lì e di conseguenza anche l'azienda e poi se la gente ritorna e vuole lavorare per l'amor del brand va bene io dico quello che è successo bando alle ciance questo scusate la parlantina e il racconto ma almeno lo dico chi mi segue qui lo capirà e non farà poi più domande sui altri social perché già sono stufa fino sopra delle persone che anche mi hanno dato ad ossa addirittura perché vabbè lasciamo stare non vuole più creare polemiche che cosa mi sono presa perché avevo qualche provvigione e ho aggiunto qualcosina e ho preso ultime cose che mi servivano come al solito sacchetto allora ho preso che io non le avevo provate nemmeno queste qua pensate un po i nuovi erano uscite anche un po di prodotti nuovi probiotic power questo è il detergente universale francamente non vi so dire tanto di questi probiotici probabilmente sono prodotti si non inquinanti non inquinanti non questo ad esempio si può fare un po tutto perché si può usare per macchie vecchie incrostate grasso macchie residui di acqua dura tutto cioè sui pavimenti è un prodotto che un tutto fare ecco comunque io non l'avevo mai provato perché era nuovo e non l'avevo nemmeno trovato disponibile poi a un certo punto l'ho visto l'ho preso ne ho preso i due flaconi perché questi sono concentrati e a me questi prodotti mi piace e poi ho preso il detergente anti grasso quello tipo uno sgrassatore così che si può usare anche sui forni fornelli eccolo qui con faccio scritto long lastiche effetti mi trovo proprio un po in in difficoltà perché non li conosco questi questi qua sono per la prima volta che li prendo e ne ho presi due così sgrassatori e due detenti di quelli altri perché almeno un po cielo poi come della linea oceanum era uscito questo spray chiamiamolo l'acqua minerale con alghe marine mist io non l'avevo provato ho detto cavolo sta a vedere che che ne so non lo fabbricheranno più oppure cosa succederà allora me lo prendo perché ecco qui e confezione così almeno per provarlo perché sapete che a me è sempre piaciuto provare i prodotti novità eccolo qui è uno spray revitalizzante comunque linea oceanum è ottima a livello di creme patch tutto ha sempre piaciuto questa linea una linea di lusso come l'ho sempre detto poi balsami labbra buro cacao ecco fatto scorta a mio marito perché ce l'ha ancora in casa però detto ne approfitto e le prendo così almeno per qualche mese ce l'ha però poi dopo non so dove li prenderò gli ho presi questi intensivi vitamin e poi questi qua intensi anti age era un libro cacao da lui più amati perché gli amano a morire e poi vabbè la classica bola nel solido poi ho preso perché non sono riuscita a provarla mai e poi ho detto me la prendo perché avevo anche i sconti dalla vip dalla diciamo dall'area vip dei 70 e questa non è una cipria che costa due euro c'è un 18 euro più o meno mi ricordo bene ho preso la cipria zero gravity della linea skin sense sapete che da questa linea io uso la traslucente e la blar effetto però per questo ho voluto usare anche lei ho preso la 64 43 che è la beige 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 semplice si è la beige ecco per la mia tipologia di pelle diciamo così eccola arriva con la spugnetta l'ho usata oggi nel trucco eccola qui dispiace molto perché che vi devo dire troppo è così un brand che si ferma per queste problematiche poi della linea it's clear vi dico la verità alcuni prodotti non erano nemmeno stati sono stati pochissimi ma poi sono volati via poi le han caricati di un meno male che sono riuscita a prendere anche qui qualcosa se sapevo che era così buono me ne sarei prese di più però chi cavolo si aspettava che da oggi a domani l'azienda si ferma nessuno avevamo detto vabbè si lavora col catalogo pdf però almeno poi ordinare c'era ragazzi giuro da oggi a domani il sito è andato proprio fermo pack ve l'ho già detto l'esterno è questo è quella linea naturale vegana e io ho preso il lip balm con olio di macadamia e vanilla buonissimo l'ho provato oggi pazzesco poi ho preso anche sempre dalla stessa linea il l'ips che rosetto l'ips che tonalità marrone vaniglia non è un rossetto che è un balsamo più che altro colorato come questo che ce l'ho sulla laurea questo lo mette a un certo punto ti sparisce non è che eccolo qui molto carino come back sottile ecco il colore è questo ma la cosa diciamo da mettere lì a spattuto ecco da tutti i giorni lo metti in borsa è un pizzico di colore sulle labbra questo è tutto quello che mi è arrivato perché ho detto non sono tante cose e poi ho preso due cose che vi devo far vedere poi concludo perché ho detto che non è un grande diciamo unboxing chiamamolo così due prodotti che li ho già fatti vedere su instagram però in una dirata dove mi ero anche truccata addirittura però qui su youtube non ve lo fate vedere è uscita di recente la collezione disney classics di essence collezione che c'è uno spray corpo di quello non lo so scintillante qualcosa del genere proto che a me non non è che fa impazzire e per quelle che vanno morte per questo scia poi due blush bar illuminanti perché sono marmorizzati con delle particole illuminanti quando tu lo metti ti lascia anche la luce oltre che il colore non potresti poi potresti anche non usare più illuminanti cos'ho visto un mist diciamo uno spray viso non so se era un fissante o qualcosa del genere rossetti non c'erano c'erano lip gloss e di quelli rimpolpanti che ora vi dico anche del lip gloss e due palette una sui toni di verde è un'altra sui toni di rosa viola qualcosa del genere io ho preso la quella sui toni di rosa viola che si chiama dumbo l'altra sapete che non mi ricordo come si chiama il costo 12 99 non è male per niente l'unica cosa che non durano tanto io l'ho già provato dovrei ancora provarla per vedere per quelle ore che ho ottenuto il trucco sopra non mi è sembrato che mi durasse tanto diciamo che è senza alcuni alcuni polveri non le ha così molto pigmentate a quella qui a e poi ho anche un'altra di farlo vedere non so sapete quello fatta vedere che una collezione limitata bellissima sul retro è così packaging spettacolare per il prezzo che ha bellissimo e da collezione anche se volete è bella perché c'è scusate non riflesso c'è lo specchio qua c'è scritto dumbo essence dumbo qua essence disney e i colori rara sono questi veli swatcho perché l'ho già usata sono bellissimi vi dico la verità non sono brutti c'hanno anche dei nomi carini però come vi dico non non lo so non mi è sembrata che durassero molto ora non ho messo io perché a volte certe palette sui certi polveri dovete mettere il primer io avevo messo correttore ea volte non scusate non regge il corretto col correttore molto il il colore nel senso che non vi dura molto diciamo che molto bella me piace scusate ma tra la leggera freddore ci sta se vedete i colori c'è da impazzire ho fatto solo la metà guardate e ora vi faccio l'altra metà questo è una cosa spettacolare guardate come rilascia il colore c'è non ho mai visto una cosa un ombretto così dual trial chrome direi perché anche questo viola che ve lo metto qui per questo blu macchiato di viola mi è piaciuto moltissimo vi dico la verità ho detto al limite la tengo lì però io ho già fatto un trucco il giallo sembra non si vede molto non saprei devo ancora sperimentarla questa perché sapete bisogna vedere a volte è proprio setta perché infatti c'è scritto silky settosi molto settosi ed è vero però per durare ancora di più ecco non c'è da da dire nulla questi sono tutti i colori ecco ragazze siete amanti di colori del genere e sapete perché l'ho presa questa e non quella dei verdi a parte che su di me gli ombretti di color verde svaniscono un po perché gli occhi verdi e di conseguenza al verde sul verde non è che si accentua però o per si perde il colore c'è l'ombretto o si perde il colore degli occhi e poi alla fine cos'è che che fai notare cioè qualcosa deve far notare però se siete amanti diverti anche quella non era male io stavo pensando di prendermela anche l'altra per collezione però detto cavoli ne ho tanti della stessa collezione ho preso se siete come mai un po sensibili non che non ve la consiglio però io non amo questi prodotti l'ho già detto sempre non c'è scritto che ha peperoncino però raga essendo un plumping lip filler c'è l'acido aluronico e vitamina e io non pensavo che pizzicasse così perché ho già comprato qualcosa del genere con menta ad esempio senti quel ghiaccio sul sulle labbra ma non senti quel pizzicore ecco questo proprio pizzica e ora mi sarei messo il peperoncino io mi riparto non amo questi prodotti però vi dico la verità fa al lavoro peccato che è molto bello non so quanto lo potrei usare questo al limite lo tengo per delle clienti che hanno amano quell'effetto plan per planting pro io non a parte che non amo molto quell'effetto rimpolpante sulle labbra mi da noia mi sembra una cosa finta preferisco essere naturale anche mi tengo la ruga mi tengo il labbro sgonfio ma purtroppo preferisco di no questo è un buon prodotto vi giuro a un costo piccolo se siete amanti delle labbra lo fa lo fa fidatevi io ho preso questo colore che non lo so quale numero 02 credo esatto c'era anche un altro su rosa non c'era disponibile c'era solo il test ecco questo è una specie di bo tra un pesca nude qualcosa del genere vedete è naturale sulle labbra si vede da dio benissimo però mi riparto se amate quel tipo di di fatto prendetelo se no state lontane che è meglio detto ciò ne ho un'altra ve lo faccio vedere pure questa perché non lo so se ve l'ho fatta vedere questa qua è sempre di essence e di una collezione che ho beccato solo la palette perché era proprio il come si dice il cavoli e lo stand di essence delle novità era proprio cioè vuoto avevo beccato lei e spugnetta e non mi ricordo che cosa altro di questa collezione ma la collezione era ancora ampia però i prodotti mi questo è è una palette in quello che ho capito da quelli che parlano sul web è in edizione limitata questa è la 01 la choose what makes your heart bloom che sapete che essence fa a volte delle ecco ora vi faccio vedere questa e impazzirete non ha niente a che fare con quell'altra questa raga io non ho mai visto ombretti così pigmentati ma quando dico pigmentati perché ti macchia la palpebra vi giuro non sto scherzando cercate di mettere di sotto un ombretto se volete farlo evidenziare il colore sarebbe bello bianco io un matitone che mi piace molto dalla nyx il milk quello il jambo però mettete un buon colettore o qualcosa che non vi immagino una bella base un primer che non vi macchia la parte perché macchia sono praticamente pigmenti questi c'è proprio una pigmentazione pazzesca eccolo qui specchio imita qualche palette qualche di qualche brand diciamo che si assomiglia più o meno a huda beauty ecco per dirla tutta a un unico glitter che vi consiglio se la beccate questa palette di usare la cola perché se la prendete così aggrappa non dico però poi vi trovate i glitter ovunque guardate che belli cascano giù e poi non li avete più sull'occhio ed è un peccato se la usate perché qual è l'effetto deve usare i glitter ha degli ombretti sia opachi sia saten più questo glitter che si può aggiungere anche sopra gli ombretti ecco io vi faccio vedere i colori che sono uno più bello dell'altro ecco questo ad esempio è un colore di quelli che vi lascia macchia fidatevi guarda questo viola cioè pazzesco io non ho parole ecco sul dito giusto per ok sperate che vi porto anche su quest'altra mano a me piace molto guardate questo viola c'è un lila viola diverso questa francamente non spolvera cioè parliamone cioè questo io un pigmento così ne ho qualcosa di mulac è qualcosa di Kat Von D credo però cavoli c'è questo livello guardate questi ditemi voi per 4 euro 50 o 5 euro che credo che così ho pagato e meno male che lo sono trovata perché poi mi ripeto non mi ricordo dove l'ho sentita o su instagram oppure su diciamo sui social qui su facebook oppure credo che qua se non sbaglio su youtube da qualche youtuber perché ecco vedete c'è non sto scherzando proprio lascia lascia molto macchia molto la mano ecco perché tolgo perché lo so come come quindi se ve la trovate prendetevela o se la beccate da qualche duna che la vende prendetela perché è una meraviglia questa vale tutti i soldi cioè è raro quando io trovo un prodotto low cost e vi dico che senso ultimamente sta facendo delle palette ecco ragazzi per dirvi fenomenale avete visto la differenza tra quella degli 14 colori che si sono belli anche quelli ma non molto pigmentati come questi e non so qual è il segreto di questa azienda perché a volte fa buone le polvere a volte no però cioè si vede si vede se la beccate io ve la consiglio perché durano anche molto gli ombretti non sbavano non si separano macchia ve l'ho detto e basta avrei voluto prendere anche altre cose perché non so questa collezione che cosa aveva ancora però mi ripeto nei negozi dove io vado a prendere essenzio trovo sempre rovinato quasi il brand il stand un po in ordine lo trovo da dm che probabilmente lì le ragazze sono un po un po più attente però se vai ovvi detto ciò io ho finito vi lascio il link dove mi potete seguire seguitemi anche qui iscrivetevi attivate campanella e che vi devo dire vi mando un bacio grosso grazie per il like e ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao